E la Puglia è tra le ultime regioni nella classifica sull'occupazione femminile. Impietosi i dati di Svimez, l'associazione per lo sviluppo del mezzogiorno. Poco più del 30% delle donne che lavorano quasi sempre con stipendi più bassi degli uomini. Renato Piccoli. In Italia si salva solo la provincia di Bolzano, che compare nella prima metà della classifica. Il tasso d'occupazione femminile, tra 15 e 64 anni, in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria è addirittura più basso della Guaiana francese o della Tessalia, scrive lo Svimez nel rapporto elaborato su dati Eurostat ed Istat relativi all'occupazione femminile. La Puglia è nelle ultime posizioni, insieme alle altre regioni italiane del centro-sud, con un tasso di occupazione del 31,7%. Peggio di noi, la Calabria, la Campania e la Sicilia, dove al lavoro meno di una donna su tre. Nei 28 paesi membri dell'Unione la media è del 66% e la situazione, a detta dello Svimez, è in peggioramento. Nel 2001 il divario delle regioni del sud rispetto alla media europea era di circa 25 punti percentuali. Oggi abbiamo superato i 30. Anche quando lavorano, le donne italiane svolgono mansioni più dequalificate e a parità di mansioni guadagnano meno degli uomini.